la roma la roma in realtà per i miei uomini i miei uomini potevo dire saremo perchè però è tutto per un'altra parte perchè ci sofferebbe un po' di discezione e no, hai avanti no no non so io ho fatto io io ho fatto io io ho fatto il mio padre io ho fatto il mio padre pomar pomar oh oh o mi eh oh e' sempre tutti i nomi quando li fanno tutti i nomi se sei bello che ci sa e che ha detto è nato un figlio no, è nato un'altra rarrivo a rarrivo a rarrivo a rarrivo a rarrivo a rarrivo a rarrivo se ti applichi senza fórum è dopo te li hai che fa tutto no, questa sei una fina, sei una fina, quella l'hai fatto male non farei la nota bella il fà la voce del suo amore perchè il fà c'è una chiave, senza chiave del fà, no? no, che mi racconta il fà no, no, no sempre una chiave del fà no, vabbè questa è la chiave del fà che non so come che fa, però vabbè quello che ho detto lo che fa vero di cantare il suo sancero è mai un'opera che fa ma poi passa tutto il tempo a ingrassiarci il suo strumento e beh, che cazzo dorme e siede aspetta, son e il basso, parliamo dello zero non è vero, che cazzo è vero, che cazzo è vero che cazzo è vero, che cazzo è vero però, 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 è sempre uno strumento basso perché non ha capito dei guardi giudici che cazzo è una prastanza basso e non ha capito dei guardi giudici e non è vero, che cazzo è vero quasi sempre essere i genitori per fà basso nel senso del corto eh che non ho capito del nido, del strumento basso si 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 se puoi anche tu per arlo ahahah si 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 sa a messare si si capitan no tu perlino vai a ti ma qui non ti vuoi andare anca ahahah adesate stanno ca' io ahahah ah no e l'estero da leggere però va ai calci la mia la mia pericolata la mia maria ho fatto i miei figli e per i miei strumenti che sono e con la calma la proposta è la mia la mia quando quando aveva l'alberto di rinforzare ma perché anche l'alberto la parola la parola mi va avanti l'obiettivo mario domani anche per l'albera mario della polizia la parola bambini ma infatti ora mi sta a livello che non sei più l'imperatore? ah no, se vuole dire perché? e mai non scordi un corpo contundente grazie ahahah un giocatore.it non è vero 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 è vero non è vero Ma cosa è vero? Non capisci! Oino! Che non sei l'imperatore! Deci! Sì! No! No che sei vero! e' un'altra cosa se ti pensa che questo vuole stimolare un problema è sempre il rai ti penso se fa il rai io ho un'altra mente non sarà scritto ma non sei l'assunto delle puntate precedenti nooo ma non sa che ti senti che non ti senti ti senti qualcuno che vuol dire oh no no io non liberatore se sì Sì, un tipo a posto, ma un pochino mazzarozza. Questa c'è sempre in testa, o mania, savi necra, o... Faremo? Facciamo di recorto o checa? Esatto. Questa c'è trova nella storia, che finisce con la... Oh, Mario! Oh, Mario! Questa c'è trova nella storia, che finisce una volta? Oh, Mario! Oh, Mario! Oh, Mario! We were, we were... Mario! Si provi a cambiare, eh! E' un deficiente! E' un deficiente! E' un deficiente che da sola copre il famiglione! Ma perché si dice gravi? Perché credo, credo, per ogni qualcuno che c'è qualcuno... Oh, Mario! Oh, Mario! Oh, Mario! Oh, Mario! ppyfan, perché è... E invece Woodhiker... E cosa dite che a settimana fai la sostente per la pepana? E' non sei cosa da poco, a vera volte, ma a un gozo... E' davvero, perché... Oh, no, okay! On, okay! Non fatti cosa. la volta la volta la tua la tua la tua la tua la tua la ai 4 20 ma con la barba da altri tempi e sto a discorrere di via, però ho scritto di via, che sta ben in tua compagnia, però non sto a montarti a testa qualcuno da questa pezza, ma io sto a ripartire, ma io sto a ripartire, ma io sto a ripartire, ma io sto a ripartire.